Ok gente, è tardi e c'ho un sonno della madonna, però sfortunatamente sono indietro con le mie registrazioni e mi dispiace fare lunghi periodi e senza pubblicare nessun video, nonostante a volte ci sono questioni di forza maggiore che ti impediscono di farlo, però non è questo il caso, quindi decido di sottrarre qualche ora a il mio sonno per potermi registrare e per qualche ora intendo i prossimi 20 minuti, più o meno allora vediamo un po' se fare altri 5 cicli o forse anche 10, forse 7, 8, vediamo, vediamo allora, voi vi siete appena svegliati, da bravi lavoratori quali siete, iniziate subito a scavare e raccogliere oggetti bene, bravi, costruite, giusto? Vi avevo dato priorità a questo muro, dopodiché dobbiamo fare della ricerca, sì, va bene, ancora attiva Lindsay, tu sei la mia scienziata, giusto? Credo? Sì, scienza, infatti stai andando su a lavorare, ok, perfetto, è esattamente quello che voglio che tu faccia, che tu lavori sulla ricerca mentre tutti gli altri fanno i lavori manuali ok, perfetto, diciamo di scavare anche così, intanto che ci siamo, direi che siccome siamo messi ancora abbastanza bene con l'ossigeno, che ricerca stiamo facendo? ok, stiamo facendo, ok, ricerca dell'acqua, perfetto, per la sanità, sanizzazione della nostra, della nostra base allora, facciamo così, direi che al momento ci concentriamo sul cercare di spostare quest'acqua qui dentro cerchiamo di riportarla dove deve stare poi, quando scaveremo ancora e arriveremo anche a queste due fonti di acqua sposteremo anche quelle due ma per il momento cerchiamo di togliere tutta questa H2O da dove non ci piace averla allora, direi che quindi facciamo un po' di plumbing intanto che ci siamo e lo mettiamo qua il che va benissimo e, senza perdere troppo tempo, fai così e questo già dovrebbe bastarci mi aggiungi questo punto elettrico con questo e poi dopo questo lo elimineremo, ma per adesso fammi così e dovrebbe andare tutto che è una meraviglia sfortunatamente ci si è ammalato Abe è stato troppo tempo dentro, con i piedi dentro all'acqua e si è ammalato di ipotermia credo che lo renda più lento e lo faccia starnutire se non mi ricordo male, fammi un po' vedere ipotermia meno scienza, meno utilizzo dei macchinari meno costruzione, meno cucina e più uno di starnutimento il che è un sintomo che tutti conoscono e tutti descrivono allora, fai questo adesso sì, che è il prossimo passo che è l'eliminazione della nedride carbonica allora, intanto che tutti questi balordi lavorano potrei un attimo descrivervi come funziona il pannello elettrico o la schermata elettrica come potete vedere, dobbiamo trovare un modo per generare elettricità che in questo caso si tratta di questa ruota per crescetti un generatore manuale e poi l'elettricità che utilizziamo va direttamente a dare energia a tutti i macchinari elettrici con i quali è collegato se produciamo più elettricità di quella che consumiamo possiamo metterla in stoccaggio dentro a questa batteria per il momento bisogna fare molta attenzione perché è molto molto facile sovraccaricare il sistema elettrico questi cavi qua, che sono i cavi standard possono portare al massimo 1000 watt se noi produciamo più di 1000 watt il sistema va in sovraccarico e non è per niente una cosa positiva se... perché non state... ah, non state lavorando perché devo dirvi di scavare anche così se il sistema elettrico richiede più di 1000 watt cioè non solo tu li puoi produrre più di 1000 watt ma è anche possibile che tutti i macchinari collettivamente chiedano alla batteria più di 1000 watt se succedono una di queste due cose il sistema va in sovraccarico e rischi del danneggiamento ah, skills allora, fai più ricerche beccati un bel cappello adesso potrai utilizzare anche il super computer molto molto utile ci serve assolutamente abbiamo un achievement ok poco importante ok adesso ho bisogno che scaviate e finiate di costruire questa pompa dell'acqua la schermata della pompa dell'acqua invece è un po' diversa rispetto a quella elettrica semplicemente ti dice dove l'acqua sta entrando dentro ai tubi e dove ne sta uscendo il verde è dove entra cioè da il nostro sistema esterno entra dentro a un tubo e da dove poi dal tubo esce per tornare dentro all'ambiente in altre parole stiamo cercando di spostare questa piccola piscina di acqua dentro a questa piscina artificiale da noi costruita se vi steste dando una mossa e scavate mi fate un favore non mi dispiace neanche l'idea di fare così in modo che così potete raggiungere questo cibo perfetto è un po' di cibo in più perché queste piante qua questo millwood producono cibo a intervalli regolari credo che siano tipo 10 giorni fammi vedere 12 12 giorni 12 cicli ok va benissimo allora altra skills mi sa più o meno salgono tutti di livello insieme tu adesso puoi scavare roba più dura e scavi più velocemente quindi dovresti essere in grado di scavare anche questo adesso quando prima invece era quasi impossibile ok devo seriamente darvi una priorità 6 altrimenti non non volete terminare la costruzione qua avanti ragazzi vogliamo solo spostare un po' di acqua dai sì ok qua giù ci potete arrivare oh finalmente sì c'era da dargli da dirgli datevi una mossa fate anche questo adesso appena hanno finito di costruire qua come sei lento a costruire per favore fai fare il lavoro a qualcun altro bubbles tu sei appena appena più veloce bubbles ma non di tanto ok ti manca dell'ossigeno dubito che riusciremo a finire di costruirla prima della fine di questo ciclo di questo passo ok forse ci riusciamo possiamo vedere vedete questa pompa prende l'acqua da dove si trova la ficca dentro al tubo e il tubo la ributta dove noi gli diciamo di buttarla ora questo è relativamente inutile perché la stiamo spostando se no di due metri e questa pompa consuma elettricità quindi non è che lavora gratis però credo che valga la pena avere un minimo di ordine allora abbiamo una nuova stampa ok molto 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 bene direi che anche questo non sarebbe male è l'unico modo che abbiamo per ottenere questo tipo di seme in questa partita se non mi ricordo male perché il gioco non ce lo fornisce in questa mappa ma credo che andrò comunque con Rowan che è un agricoltore molto bravo è molto bello è stylish ha molto stile si veste solamente di prada armati e gucci lui quindi è molto bravo nel migliorare l'umore delle persone attraverso la sua bellezza innata però è anche un obeso e mangia tantissimo no non è non è detto che sia obeso semplicemente mangia più degli altri Rowan benvenuto e mettiti subito a lavorare come agricoltore questa è la tua priorità divertiti nonostante non ci siano molte piante da coltivare al momento ma stai tranquillo prima o poi arriveranno anche loro abbiamo già un letto per te però intanto che ci siamo ne costruiamo già un altro per il possibile futuro lo sai cosa intanto che ci siamo ne costruiamo abbastanza per concludere questa stanza perfetto perché la maggior parte delle stanze devono essere larghe al massimo 64 e quadrati come per esempio questo bagno questa latrina e questa camera da letto per più persone ok scaviamo un po' qua allora adesso direi che prossima cosa che facciamo è a cui diamo priorità adesso che si sta finalmente spostando qui quest'acqua è eliminare la nederde carbonica allora eliminare la nederde carbonica la nederde carbonica cade uh qua sta diventando bello caldo bisogna fare attenzione la nederde carbonica cade verso il basso quindi la cosa più intelligente da fare sarebbe al momento scavare ancora più in basso facendo così ok geniale non voglio scavare questo buco questo quadrato fatto composto da alghe e perché sennò incomincia a cadermi l'acqua e non voglio voglio buttare l'acqua qui quindi devon bravo scava scava e poi costruite anche e direi che il macchinario che metterò per eliminare la nederde carbonica la mettiamo qua in basso mi sembra la cosa più intelligente fin tanto che c'è verde per me sono zone abitabili quando inizia a diventare giallo rosso o blu è perché c'è troppo caldo qui c'è un geyser ok c'è un geyser di acqua calda loro lo chiamano di vapore freddo ma non esiste vapore freddo sfortunatamente in questo gioco esiste solamente vapore caldo quindi bisogna fare attenzione perché questa è un'ottima fonte rinnovabile di acqua però è acqua un po' troppo calda esce a 80 gradi ok allora eccolo qua al momento abbiamo due modi per eliminare la nederde carbonica uno che non utilizzerò e uno invece che utilizzerò intanto che ci siamo mi costruisci questo mi fate ricerca su quello allora possiamo usare se vogliamo delle alghe che trasforma perché nessuno sta lavorando dio santo ragazzi c'è tanta di quella roba da fare se volete non devo mica essere io a darvi ogni singolo ordine di continuo se volete scavare scavate gente state tranquilli non mi offendo ecco qua lavorate ragazzi allora possiamo usare le alghe che trasformano in ossigeno la nederde carbonica producono 40 grammi di ossigeno però producono anche acqua sporca ed è un po' difficile perché devi andarla a togliere manualmente quindi non mi piace come come metodo anche perché è poco efficiente lo dice lo stesso gioco dice che è poco efficiente il modo migliore secondo me è usare questo eliminatore di carbone carbon skimmer si chiama in inglese utilizza acqua pulita la trasforma in acqua sporca però elimina completamente l'anedride carbonica quindi noi lo metteremo qua in fondo e lui semplicemente se è immerso dentro dell'anedride carbonica la elimina utilizzando acqua ed elettricità ovviamente l'unico problema è che produce acqua sporca devo trovare un modo per eliminare questa acqua sporca che lui produce perché non è mia intenzione accumularla potrei potrei fare tipo una grossa buca qui e semplicemente dico a tutta l'acqua sporca di accumularsi qua però prima o poi prima o poi si riempie quindi non è un metodo efficiente o almeno non è un metodo che mi piace la cosa che preferisco fare è innaffiare delle piante che bevono che consumano acqua sporca per poter vivere quali sono queste piante beh ne vediamo già un paio qua è per esempio questa pianta no non è questa pianta è questa pianta per esempio oppure ancora migliore ancora migliore non ne vedo neanche una non c'è la pianta che mi piacerebbe avere che è a timbleweed se non mi ricordo male si chiama così niente non ce n'è neanche una allora il problema però è che per andare a prendere queste piante devo aprire questo buco in cui ci si trova dentro un gas della clorine com'è che si traduce in italiano è tipo eccedenti è tipo un gas che che disinfetta se non mi ricordo male allora fammi un attimo vedere lo sto cercando su internet perché proprio non mi viene in mente e non posso continuare a chiamarlo clorine cloro ovviamente ovviamente è cloro potevo arrivarci dio santo allora quindi non voglio fare in modo che questo cloro entri dentro la mia base assolutamente voglio evitarlo quindi cerchiamo un nuovo metodo per liberarci dell'acqua sporca ok ce l'ho in mente vado a prendere questa pianta queste due piante posso farcela puoi continuare a mettere la scala fin qua poi vai un attimo qui mettiamo una porta di acciaio fammi pensare per adesso lavorate fin lì e va benissimo dovete distruggermi anche questa batteria perché adesso ne possiamo costruire una migliore ok costruiamo questa batteria che è un pochino più grossa devi distruggere anche questo cavo mi metti cavo qua così e batteria qua così perfetto questa batteria praticamente il problema delle batterie è che perdono un po' di elettricità ad ogni ciclo la batteria grossa questa qua la jumbo battery perde meno rispetto a due batterie piccole insieme allora abbiamo cinque duplicanti due bagni dovrebbero bastare per il momento però lo sai cosa non facciamo cretinate e costruiscine un altro giusto per stare sul sicuro fai così e prendete anche queste piante intanto che ci siete slime no non vedo proprio nessuna pianta che mi possa tornare utile al momento la nitride carbonica non è un cavolo di un problema al momento di ossigeno siamo messi molto bene il che è strano perché dopo otto cicli dovrebbe iniziare ad essere un problema non un problema serissimo però un problema relativamente importante comunque allora voi avete già scavato fin là allora possiamo riattivare questa ruota per criceti qua inizia a fare caldo gente eccola qui questa qua mi piacerebbe avere consuma 160 kg di acqua sporca a ciclo mentre tu ne usi solamente 35 kg che è molto di meno inoltre ti serve anche della fosforite mentre a te no tu sei a posto senza a te serve solo acqua sporca ok andiamo a prendere questa pianta quindi molto gentilmente tu scavi così ok perfetto intanto che ci sei ti dico anche prendi queste erbacce e poi da qua fammi vedere come arrivare qui senza causare troppi problemi dobbiamo fare attenzione a dove scaviamo e altre cose del genere allora cavoli qua c'è un sacco di verde qua in basso come temperatura posso continuare ad andare sempre più giù cosa che mi sa che farò arriva fin qua per adesso è una buona idea costruire l'affare che distrugge la nedride carbonica quanto più in basso possibile perché tanto è là che va a viaggiare la nedride carbonica se lo costruisci a metà della tua base non distruggerà mai tutta la nedride carbonica che è sotto di lui perché ci sarà sempre dell'ossigeno piuttosto ok qua c'è un tavolo costruito da qualcun altro ogni tanto si trovano delle costruzioni già fatte ma per il momento non stiamo a cercarle non stiamo a preoccuparci sto giusto dando un'occhiata se per caso velocemente trovo degli altri geyser perché vedete sono facilmente distinguibili perché i geyser si trovano sempre sotto questo materiale che è molto molto freddo quindi se hai tipo tre cubi di terreno freddo in mezzo a del caldo o temperato sai che lì è perché c'è un gas questo è perché c'è del vacuum ok niente allora direi che per arrivare a te devo per forza scavare in dello slime che vorrei evitare che lo slime produce una tonnellata di germi e la cosa non mi piace sì credo di essere costretto fammi un po' vedere mi sa che almeno questo dovrò scavarlo forse no forse ci arrivate senza chi lo sa adesso vediamo se basta bene se non basta troviamo un'altra soluzione ok abbiamo un generatore di carbone il che incomincia a diventare abbastanza importante se vogliamo smetterla di correre come criceti ok bravo tu continua a scavare ti manca dell'ossigeno quindi torna pure indietro lo sapete cosa incomincia ad essere un po' bassa la concentrazione di ossigeno costruiscimi un diffusore di ossigeno qua per il momento collegalo sempre alla nostra barra elettrica ecco qua a come richiesta massima 420 ok perfetto allora quest'acqua qua purtroppo adesso non cadrà più qui quindi possiamo semplicemente tirare la sua mano adesso qualcuno lo farà direi che il prossimo passo appena abbiamo messo a posto l'anidride carbonica sarà incominciare a produrre cibo potremmo già iniziare adesso non è una cattiva idea allora facciamo così food non posso ricerca ok mi stai già facendo ricerca in quello che mi serve perfetto incomincieremo a costruire un po' di faremo del giardinaggio gente questo è quello che faremo nei prossimi nei prossimi giorni ok ok va bene bene dai lavorate bravi avete pulito tu stai dormendo un po' di più probabilmente eri più stanco degli altri non è un problema se hai fame e vuoi andare a mangiare vai pure a mangiare non ti preoccupare tu inizia a produrre un minimo di ossigeno altrimenti qua oxygen not included sarà come si dice onesto sul proprio nome su quello per cui è famoso tu non stai facendo niente bubbles sei relativamente inutile qua qualcuno ci arriva fammi un po' vedere gli ho dato priorità 9 rona no unreachable nessuno può raggiungerlo ok va bene niente devo sto pensando si sono costretto a scavare qua questo slime niente scava quello slime anche se non vorrei ma purtroppo si è costretti e intanto che ci siamo mi fai un po' qua così e scavate anche così così intanto bubbles c'ha qualcosa da fare ah bubbles sta andando a scavare questo ok vai bubbles allora il motivo per cui non volevo scavare questo slime è perché vedete lo slime ha lo slime lung che è un virus che al contrario del food poisoning dell'avvelenamento da cibo è molto più pericoloso e quindi vorrei assolutamente evitare di creare delle fonti di slime troppo grosse inoltre lo slime emette ossigeno avvelenato e tossico e non non mi piace voglio tenere l'ossigeno che respiro quanto più pulito possibile perché io sono sono per il riciclaggio e sono per un mondo verde gente quindi cercate di non sporcare troppo l'aria che state respirando miei cari ragazzi allora ecco cosa faremo adesso a te per crescere devi stare tra i 22 e i 37 gradi 22 e 37 gradi ok quindi praticamente tutto a posto va bene va bene qua sta venendo veramente troppo caldo qua in alto ma fa parte del lavoro purtroppo ci preoccuperemo quando ci dobbiamo preoccupare vi state scavando eh piuttosto fammi anche questo per favore allora avete finito la ricerca qua del cibo no ti manca perché devon sta facendo della ricerca l'insei dovrebbe fare della ricerca devon non voglio che sia tu a fare ricerca spostati l'insei spostati vai a fare ricerca l'insei la priorità ok si è subito spento il macchinario perfetto comunque la cosa importante era costruire questo farm tile così che possiamo iniziare a produrre cibo e anche tanto cibo fai così per il momento e scavami anche questo e scavami anche questi perfetto voi intanto qua continuate ad andare sempre verso più il basso se ci riuscite sfortunatamente la mancanza di ossigeno non rende il lavoro estremamente facile pollute d'oxigeno ok tecnicamente questa sacca di ossigeno tossico non dovrebbe arrivare alla mia base perché c'è questa sacca di anidride carbonica che lo tiene bloccato non possono spostarsi quindi ho fatto una mezza genialata a creare questa conca perché questo è un gioco che segue molto le leggi della fisica per il peso ed altra roba del genere allora mi sa che prendiamo te così abbiamo qualcuno che è bravo a correre sulla ruota che è quello che fai tu giusto tinkering eccolo qua sei anche bravo a scavare qua però fa lì stesso non è una cosa estremamente importante e poi ti diamo le priorità la più importante per te è correre sulla ruota quindi bubbles se vuoi smetterla se vuoi semplicemente spostarti e lasciarlo fare a com'è che ti chiami a pay direi che siamo tutti soddisfatti no c'è comunque andata a bubbles va bene lo sai cosa secondo me conviene mettervi a due tutto questo lo sapete no lo sai cosa è meglio probabilmente abbassare tutto il resto ups fare ups fare tutto così ups di nuovo dio santissimo ce la faccio cliccare nei quadrati giusti ci vorrà un secolo posso anche velocizzare un po' il tempo intanto nello sfondo intanto che dio santissimo però se per sbaglio clicco fuori dal quadrato potresti gentilmente non uscirmi dalla schermata sarebbe tipo la cosa più comoda e te ne sarei estremamente grato mi renderesti la vita molto più facile allora io direi che facciamo non ho parole facciamo ancora un paio di cicli e poi direi che potremmo anche concludere questo episodio ok perfetto allora questo lavoro per fortuna adesso non dobbiamo farlo con ogni singolo duplicante con ogni singolo di ups perché ho detto anche ai nuovi duplicanti di mettere in standard negativo tutto di uno e non fare arte arte deve farla solamente uno che è veramente bravo nell'arte gli altri non devono assolutamente farla ok oh bravo no devon perché tu stai scavando perché tu stai correndo tu dovresti scavare è pay che dovrebbe correre infatti vedi come la stai caricando lentamente devon dove cavoli sei may may pay per favore per favore vai a correre sulla ruota prima che lo faccia qualcun altro giuro su dio Abe ti odio con tutto me stesso pay voglio come faccio a farti capire che voglio che tu corri Erwans pay ok ci sta andando pay no si no ci sta andando Rowan guardate ragazzi non vi posso costringere però sarò sincero la cosa mi rompe abbastanza le scatole che non stiate facendo i lavori che vi dico di farli con la priorità con cui vi dico di farli Rowan capisco che non c'è nessuna pianta che ha bisogno delle tue attenzioni ma letteralmente stai producendo meno elettricità di quella che stiamo consumando quindi ecco il nuovo piano per il momento costruiamo una nuova ruota poi in futuro metteremo le cose più in ordine per adesso mettiamo un po' gli oggetti dove stanno ok e qui la fattoria piano piano sta nascendo devi produrre tanto tanto cibo e sfortunatamente produciamo cibo relativamente schifoso al momento ma non stiamo a preoccuparci abbiamo un frigorifero anche adesso allora abbiamo sei duplicanti e se non mi sbaglio ci vogliono in media cinque cinque piante per duplicante quindi me ne servirebbero almeno trenta e ne ho fatte solamente ventotto per di più credo di avere due duplicanti che mangiano più della media quindi in realtà mi servirà anche più cibo del solito per fortuna ne abbiamo un bel po' abbiamo ancora quattromila calorie quindi siamo non in pericolo di anoressia però ci metti poco ci metti veramente poco a a finire nei guai soprattutto per colpa dell'ossigeno del cibo bisogna fare attenzione bisogna fare oh guarda guarda Pei come va hai visto che roba brava Pei tu devi correre questo è il tuo lavoro sono fiero di te nessuno mi sta costruendo questa scala qui al momento siete tutti più indaffarati a fare la nostra fantastica campagna campagna di pomodori gente tanta salsa tra poco allora io direi che anziché concludere l'episodio con questo ciclo concludiamo l'episodio nel ciclo in cui è conclusa questa questa costruzione di giardinaggio credo che sia la cosa più intelligente da fare al momento sto controllando che non ci siano dei mob che mi stanno mangiando le mie risorse perché di solito escono durante la notte ma non vedo nessuno quindi a posto Rowan come è not allowed ah by schedule ok perché stai dormendo Rowan appena si sveglia dovrebbe andare a lavorare su questa pianta guardiamo un po' Rowan fammi vedere se c'ho ragione eccolo lì guarda come corre va verso la pianta sta per vomitare incominciate ad avere dei problemi di ossigeno gente probabilmente si ok ci avevi fame Rowan va benissimo se devi mangiare mangia fammi vedere che vai da quella pianta Rowan stai passando tre quarti della giornata a mangiare Rowan sono circa quattro ore che non stai facendo altro che mangiare ok grazie lo so era cibo disgustoso ma è quello che passa al convento Rowan dopo circa otto ore sei riuscito a fare la tua prima il primo compito della giornata sono fiero di te Rowan bravo nessuno sta più costruendo qua gente priorità sei altrimenti qua non finiamo più ok forse così le cose andranno un pochino più veloci dove stai andando Abe stai andando a costruirmi la scala bravo Rob bravo Abe datti da fare credo che le costruzioni stiano andando più veloci adesso perché non c'è più nessuno che è sta roba critter pick up critter drop off questo qua non l'avevo mica mai visto ok va bene si l'hanno cambiato lo conosco c'era anche prima ne hanno fatto tra virgolette una nuova skin e no c'è della ricerca tecnicamente stanno facendo della ricerca ma non stanno dando priorità piuttosto al giardinaggio e alla costruzione in realtà non è neanche considerabile giardinaggio questo è ancora sotto il livello di costruzione quindi eccola qui la linsei che va guarda velocemente quanto velocemente questi salgono 3 4 5 ed è ricerca avanzata quindi niente male ragazzi ok ci siamo finito anche l'ultimo e adesso gli diciamo di costruire di piantare questa qui mi copi questo setting e me lo metti su tutti voilà e adesso pianteranno i semi per poter cucinare tecnicamente tecnicamente fatto la vostra molle di lavoro giornaliera vi siete guadagnati le vostre tre ore di dormita perché qualcuno potrebbe dire che sono un mostro dormono i miei personaggi dormono tre ore possono mangiare andare in bagno in una e poi il resto è tutto lavoro hanno cinque ore per lavarsi che uno dice cazzo piuttosto fammi dormire un'ora in più e toglimi un'ora di doccia però sappiate che se non possono o non devono lavarsi vanno a lavorare quindi tecnicamente da questa a questa sono possibili ore di lavoro incominciamo ad avere un serio problema di ossigeno adesso molto bene quindi è il momento perfetto al prossimo episodio di darci da fare per eliminare la nitride carbonica e forse iniziare a produrre anche più ossigeno gente io vi saluto vado a dormire perché c'ho un sonno della miseria ci vediamo alla prossima statemi bene e mi raccomando respirate e producete anche voi tanto ossigeno è molto importante perché anche nella vita reale l'ossigeno non è incluso ok è una benedizione il fatto che abbiamo la nostra atmosfera con la giusta neanche tanto ossigeno la giusta quantità di ossigeno perché troppo ossigeno è pericoloso statemi bene ci si vede ciao ciao